Ciao bellezze, benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio farvi vedere come realizzare una sfumatura con una semplice spugnetta da trucco. Quindi vi lascio al video tutorial, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, se avete qualche richiesta lasciatemi un commentino qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ragazzi, mi dispiace ma la telecamera si era spinta. Comunque questo è il rispetto finale Adesso ve lo zoom un po' Per farvelo vedere Ecco qui Trovate comunque la foto su Instagram E questo è tutto Un bacio e alla prossima Ciao bellezze